Che cosa vuoi? Tu eri al Tapaus, quando... L'amante di tua moglie ti ha fatto il culo. Già, bella figura, eh? Quello là si scopa mia moglie e io non posso neanche alzare un dito. Brutta storia, ma non mi riguarda. No, devi aiutarmi. Io ti pago. Ho un po' di soldi da parte e posso trovarne altri. Voglio tornare dentro e parlare con lui, ma questa volta insieme a te. Hai visto come mi tratta? Non voglio fargli male, ma deve lasciare in pace darsi una volta per tutte. Ti conviene avere una buona ricompensa. Già, qualche tappo in più ci aiuterebbe a prendere le cose più seriamente. Beh, ok. Adesso posso darti solo 80 tappi, ma ne troverò altri non appena ci saremo occupati di cook. Diamoci una mossa. Ok, andiamo. Super Salon potrà donarvi la pettinatura dei vostri sogni.